Siete già stanchi e pure io oggi non mi sento benissimo. Allora, gli atti di sindacato e spettivo sono quelle interrogazioni di gruppi parlamentari, sicuramente di opposizione, questo ci riemo a dirlo perché quando sento dire che Muttone, piuttosto che Beretto e piuttosto che Leal Panella fanno le interrogazioni, ando a ridere. Perché sicuramente... Certo, perché loro lo risolvono immediatamente. Cioè, loro con una telefonata, poi se hanno problemi che non li calcolano perché non valgono una lira dentro il loro partito, questo certamente non è un problema dei cittadini. Comunque, di solito, l'interrogazione è uno strumento dell'opposizione che non ha il filo diretto con il governo e quindi ha bisogno di fare l'interrogazione per avere determinati tipi di informazioni. Adesso io vi dico questo, io sono arrivata a ruota da 110 interrogazioni, ho fatto veramente una quantità inverosimile di interrogazioni, anche perché all'inizio pensavamo che fossero comunque uno strumento utile. Adesso, diciamo, io mi sento di poter dare queste informazioni ai cittadini che in realtà non è che siano proprio così utili. Per un semplice fatto, perché ovviamente il governo non ti risponde oppure ti risponde quello che vuole. Se come con Salvo Mirabella abbiamo fatto, per esempio, in maniera molto insistente, ma anche con altre persone, delle interrogazioni sull'aeroporto, anche abbastanza tecniche, ovviamente le risposte sono sempre piuttosto lacunose. Io ho fatto in particolare quella di l'Agenzia delle Entrate, perché come sapete noi a Catania paghiamo il signor Birlinzi per il palazzo dell'Agenzia delle Entrate, più di milioni di euro ce lo saremmo comprato per 20 volte. Questo è un problema che c'è ovunque, nel senso che abbiamo scoperto che gli affitti sono un bancomat degli imprenditori vicini alla politica, in particolare a Catania Birlinzi ne ha una quantità, ma non solo l'Agenzia delle Entrate. Ho scoperto che anche l'impalcatura dell'ospedale di Bronte, o almeno mi hanno ritenuto, quindi ritenuto quella che tiene fermo, che è lì da non so quanto tempo, è dividi. Quindi no, la paghiamo, lo è tutto poverino, ha bisogno. Ecco, quindi ha bisogno, mi sembra giusto poverino. Quindi il fatto che si interrogazioni, ovviamente, mi hanno detto perché c'era il decreto Monti, che avrebbero sospeso il contratto e avviato una nuova procedura col 20% di ribasso, come se fosse una grande conquista, in realtà era il decreto Monti che lo diceva, quindi non è che mi stanno facendo una cortesia a me, ma perché? Perché noi abbiamo fatto approvare un emendamento, che era l'emendamento fraccaro, non so se ve lo ricordavate, che dava la possibilità alle pubbliche amministrazioni di ricevere anticipatamente dei contratti di locazione e di scegliere dei contratti meno onerosi. Difatti noi, alla Camera dei Deputati, siamo recessi, come si dice, da un contratto molto oneroso e abbiamo scoperto che c'erano dei locali, grazie della Camera dei Deputati, che non c'era bisogno di pagare il Palazzinaro, Scarpellini, che abbiamo pagato per circa 30 milioni di euro all'anno, per dal 1996 ce ne compravamo anche lì 40. Questa è l'efficienza della pubblica amministrazione. Quindi, poi, diciamo, interrogazioni non fatte tante, voglio ricordare quella su Salvatore la Fata, che è stata semplicemente, diciamo, più che altro un'interrogazione per ricordare questo dramma che abbiamo vissuto come città di Catania, che da quando c'è bianco, disgrazia, che stanno succedendo veramente un putiferio. Poi, ovviamente, la mia materia è la sanità, quindi su alcune carenze riscontrate, dovete conto che la sanità è tutta regionale, dopo la riforma del titolo quinto. Quindi, l'organizzazione della sanità è regionale, una parte il finanziamento della sanità è regionale, una parte il finanziamento della sanità è nazionale. Noi, se è una regione piena di rientro, la stiamo uscendo da pieno di rientro, ma comunque finanziamo col massimo della liquota il PFIRAP e con la compartecipazione diretta, che sono i famosi ticket, quindi noi paghiamo la sanità tre volte sostanzialmente. E questo perché poi i risultati sono quelli che sono sotto l'opportunità. Quindi, interrogazione sul porto, sull'aeroporto, sulla via show service in particolare, perché c'era stata una situazione particolare che anche lì, ovviamente, ci hanno detto che avrebbero mandato gli ispettori. Stiamo facendo, stiamo dicendo, è tutto un gerundio che poi non si era dicendo. Il nulla è rifatto. Io voglio raccontarvi solo due cose precise su quello che ho ottenuto con la sanità. Sono due cose, diciamo, relativamente importanti, secondo me, e considerando che siamo in posizione, una è che è passato un emendamento in legge di stabilità che istituisce la dose unica del farmaco. Che cos'è la dose unica del farmaco? Dà la possibilità negli ospedali di somministrare delle terapie croniche, anziché tutta la scatola e semplicemente la pilloletta. Voi dite, ma che cosa serve? Serve perché in realtà ottieni un risparmio. Se lo fai bene e se lo fai in tutta Italia. In realtà, con questo emendamento doveva partire un sistema di monitoraggio che ancora stiamo aspettando, che parte con una esperienza campione per poi estendere in tutta Italia. Ci sono realtà dove già esiste, quindi non mi sono inventata niente di nuovo. Dal nord già lo fanno in diversi ospedali con risparmi sulla farmacia ospedaliera, ricordando che in Sicilia abbiamo una spesa di farmacia ospedaliera che è tra le più alte d'Italia, ma anche di farmacia territoriale. E non solo perché siamo dei grandissimi consumatori di farmaci, perché siamo dei grandissimi consumatori di farmaci, in particolare di antibiotici, e in questo ci colpiamo anche noi cittadini che andiamo dal medico e ci diciamo ma da richiesto, quindi dobbiamo essere anche noi i primi a stoppare questa autoprescrizione di farmaci perché ci facciamo del male, perché poi consumare antibiotici non significa antibiotico resistenza, quindi significa che poi quando ti serve non ti serve. uno, due, spendiamo, cioè io non mi ho fatto un calcolo con il mio collaboratore che potremmo risparmiare quasi 10 milioni di euro, 5 dalla farmacia territoriale, 5 dalla farmacia ospedaliera. Quindi tra comportamenti sbagliati nostri, tra a volte anche i medici di base che somministrano con molta leggerezza, come è successo, che poi sono stati indagati anche qua alcuni medici per i farmaci e l'osteoporosi, con molta leggerezza oppure con molta evoluzione, dipende dai casi specifici, comunque questa è un troppo spesa, sale in maniera verdiginosa. Quindi la dose unica del farmaco è poi proprio una settimana fa è passata questa mozione che è una cosa molto importante invece su cui continuo a lavorare, non perché è passata, che è lo sblocco del turnover e la mobilità. Che cos'è lo sblocco del turnover? Praticamente nelle regioni in pieno di rientro, non solo nelle nostre regioni, anche regioni che non erano in pieno di rientro ma erano un po' in bilico con il bilancio, è stato bloccato la possibilità di assumere medici e infermieri per contratto. Questo aggenerà, per risparmiare, questo aggenerà un caos. Perché aggenerà un caos? Perché se tu non puoi assumere medici e infermieri, ma poi li devi assumere lo stesso perché comunque hai un organico che devi cercare di tenere in piedi all'interno dei reparti, i direttori generali hanno cominciato a fare contratti a go-go, a chiunque volevano loro, ovviamente se voi vi andate a vedere un bando di selezione per titoli e per incarichi per fare una graduatoria, non è che ti fanno un esame, tu gli mangi i tuoi titoli, quindi alla faccia del merito, alla faccia della selezione possono prendere chiunque perché poi ha voglia di fare ricorsi e questo naturalmente ha generato clientelismo, ha generato un abbassamento di qualità della prestazione delle cure e inefficienze su tutti i fronti. Poi l'ho proprio detto, ma io ho chiesto anche quali fossero le prove economiche che conducesse effettivamente un risparmio, ovviamente queste prove non esistono, come non esistono neanche le prove economiche che tagliando i costi letto c'è un risparmio perché, e ve lo spiego perché lo capisce anche un bambino di due anni, dice io ho una struttura, ok? Io dentro quella struttura normalmente impiego 4 costi letto su 10, allora arriva Polduzzi e dice no, tu non devi impiegare 4 costi su 10, devi impiegare 3,7, è per 1000 abitanti, però la struttura rimane là, l'energia elettrica è la stessa, l'organico era quello che c'era prima, mi dici il ministero dell'economia e delle finanze quant'è il risparmio che posso letto che mi sta tagliando? Allora questo banalissimo calcolo, noi ce lo siamo fatti in maniera rudimentale, ma non c'è un atto ufficiale del ministero della salute né del ministero dell'economia e delle finanze, magari lo non ce l'hanno ma non ce lo fanno vedere, che mi dice quanto risparmio tagliando questo in famosi costi letto, questo per dirvi, diciamo, con che cosa abbiamo a che fare, quindi questo sblocco del Tarnovra è importante perché abbiamo la possibilità e avremo la possibilità anche in Sicilia, secondo me non sarà totale, secondo me anche se è stato approvato all'unanimità lo faranno sotto forma di deroga, per cui se ora c'è stata una deroga del 10%, faranno una deroga del 50%, ma comunque perlomeno per le carenze di anestesisti e radiologi, che sono le più grandi carenze che abbiamo nelle nostre strutture ospedaliere, specialmente in Sicilia, avremo una possibilità in più da spenderci, quindi questa è una bella riferita del movimento, e adesso abbiamo un'altra grossissima cosa in ballo, che è la risoluzione sulla trasparenza dei farmaci, in particolare dei contratti che fa l'Agenzia Nazionale del Farmaco con le case farmaceutiche, io ho seguito con la collaborazione di Claudio, il giornalista di Isola Possibile, che non mi sto ricordando come si chiama il mio nome, Claudio, abbiamo seguito comunque la derogazione dei farmaci per l'epatite C nei tratti, e lì purtroppo c'è un grandissimo problema, perché abbiamo questa casa farmaceutica Sicano Cilead, che è quella che produce questo farmaco, che è il farmaco più utilizzato, che costa circa 50.000 euro a trattamento, quando in India costa un dollaro, lo stesso trattamento, uguale, la stessa ditta era le corrispondenze di 600 euro, su 50.000 euro comunque questa è una differenza, in realtà Cilead ha un fratto di 20 milioni al giorno, per farvi capire di che cosa parliamo, 20 milioni al giorno e chiuderà il 2015 con un fatturato di circa 15 miliardi, i suoi titoli in borsa sono così, ed ha avuto un aumento del 300 circa per cento del suo capitale, la Cilead ha rilevato da un'azienda che aveva sviluppato il farmaco e in totale quell'azienda aveva speso 67 milioni di euro, quindi noi in Europa e in Italia, lo so che vi sto parlando di cose che sembrano pazzesche, però no, è la verità, noi in Europa e in Italia praticamente siamo delle macchine di queste case farmacentiche che vengono a città e sono loro e ci dicono o sì o niente, è per far vedere quanto è forte il nostro governo, poi dicono va bene perché diciamo anche gli altri paesi europei, ebbene anche gli altri paesi europei l'hanno venduto a questi costi così alti, però quello che noi vogliamo chiedere, stiamo chiedendo adesso, è trasparenza in questi contratti commerciali, perché sono secretati? Cioè il contratto commerciale che l'Italia, nella persona dell'agenzia del farmaco fa con la Cilead oggi, ma con l'app video mani, con un'altra casa farmacea direi secretati, quindi tu cittadino o nemmeno io, dico lei cittadino non vuole, ma io che sono un parlamentare non posso neanche avere, accedere agli atti per vedere sulla base di cosa la Cilead mi chiede circa 90.000 euro, perché se mi chiedi 50.000 euro penso di avere diritto di sapere sulla base di che cosa me lo stai chiedendo, quanto ti è costato sviluppare quel farmaco, quali sono i trial clinici che hai fatto, c'è tutta una serie di informazioni, quindi stiamo discutendo di una cosa estremamente delicata, che secondo me non hanno capito i miei colleghi del PD, perché quando gli ho detto ah bello, bello, ma comunque vabbè, dico questo per dire, e questo per dire alla Camera, qui invece come sapete mi sono svinturata questa settimana che è passata a fare questo giro per le strutture ospedaliere della provincia, di Catania, della città, diciamo che un po' le conosco perché ovviamente è stato dell'ambiente, un po' le conosco, anche se in realtà la realtà come vedete è molto veloce nei suoi cambiamenti, e certamente il quadro che è emerso è un quadro particolarmente grave, sconfortante perché al di là delle inefficienze dei servizi che vediamo come cittadini, poi diciamo da programmatori, come si dice, della sanità e soprattutto da persone che stanno a Roma e quindi vedono con i propri occhi i tagli che si fanno senza guardare in faccia a nessuno, quando poi vieni e vedi come vengono spesi i soldi e vedi che per esempio l'ospedale di Bronte che c'è un pronto soccorso, hanno una barella del 1700, ma se poi vai a Militello Val di Catania, a Militello Val di Catania e c'è un reparto nuovo per pazienti in coma vegetativo chiuso, chiuso, con i lettini nuovi, 17 milioni di euro spesso in un ospedale che fa 6 mila accessi al pronto soccorso l'anno, giusto? Allora tu dici, io pago un direttore generale 15 mila euro al mese per avere questo, me lo faccio io il direttore Dina, ce la faccio da sola a fare, cioè la programmazione sanitaria in Sicilia non esiste, non esiste, c'è la sanità a misura di politico, allora se c'è un politico in quel posto, che poi io vorrei sapere, il politico che ha fatto spendere questi soldi e si andava da Militello, giusto? Ai suoi cittadini che cosa gli ha portato? Perché poi alla fine non gli ha portato niente, cioè abbiamo una struttura che vale 17 milioni di euro che verrà trasformata in un ospedale di comunità, ossia una sorta di RSA, 17 milioni pagati da chi? Da noi, cioè quindi questi geni che dice fanno queste cose, poi a Biancavilla abbiamo l'altro genio di Polini che ha deciso di fare costruire un nuovo ospedale quando non ce n'era completamente a bisogno, perché c'era l'ospedale di Paternò che era sufficiente ed era probabilmente quella la struttura eventualmente da qualificare, di personalizzare tutto quello che volete voi, invece siccome sono dei geni, altri 18 milioni di euro che siccome il pantalone paga, pantalone noce no, il pantalone paga, allora facciamo Biancavilla, facciamo Biancavilla, già inaugurato nel 2000, dopo 15 anni lo chiudono, giusto? 40 anni per costruire un ospedale, lo inauguri nel 2000, nel 2015 lo chiudono perché ti sei accorto che è sovradimensionato, decidi! Allora qua la situazione purtroppo sulla sanità è molto complicata e purtroppo la partita è molto grossa, perché ci sono, io voglio ricordare il caso dell'ispettore Mulier che noi conosciamo, della polizia, della mobili di Catania che è indagando su situazioni corruttive, sono dimesso, su situazioni corruttive all'interno degli ospedali di Catania, dell'ASPE di Catania in particolare su farmaci e su prescrizioni anomale, cosa è successo? Che lei l'hanno mobizzata, adesso se ne sta andando nel film di Venezia e quelli che prima corrompivano e rubavano sono ancora lì a corrompere e a rubare, quindi quando parliamo di sanità, per dirvi semplicemente che saltano le teste come niente, quindi io naturalmente cerco di muovermi in maniera abbastanza attenta. Poi sul caso Nicole, l'unico aggiornamento che vi voglio dare, che ovviamente mi ha fatto il pulitare di interrogazione, ho fatto il question time, la casa di cura Gibbino solo per l'ostetricia ha avuto una sostenzione con deroga perché non avevano prodotto gli accertamenti che dovevano produrre entro il termine previsto, il 15 di luglio è il termine ultimo che ha la Gibbino, che è del senatore Vittorino, collega di un senatore Vittorino, che è stata sospessa per quanto riguarda l'ostetricia e per tutto il resto del termine. Dovete sapere che noi ovviamente a Catania abbiamo un primato sulle case di cura, cioè siamo in una delle province che era più della Lombardia, più delle province di cura. Fai 100 metri c'è una casa di cura privata e che dovranno saltare perché ora ci sono una serie di rivoluzioni della rete ospedaliere insieme a un decreto che è uscito ora sui requisiti standard per cui alcune case di cura dovranno saltare, ora me la voglio vedere questa cosa, qua esattamente siamo solo noi. Quindi dico, c'è questo, poi mi sono interessata moltissimo al caso Ebola quando c'è stato, ma grazie con molta attenzione, competenze, interpellanze, question time, per fortuna come sapete poi la forza è rientrata, sugli enti di formazione abbiamo fatto un'interpellanza urgente allora anche con Giulia Di Vita, poi ovviamente ero in giunta delle autorizzazioni quindi ho imparato a delinquere, ho imparato come fanno questi strumenti, che poi lo strumento più comune è quello della fatturazione falsa sostanzialmente, oggi leggero sul libro Re di Roma, c'è veramente le istruzioni, manuale per delinquere, poi è bello scoprire che Buzzi non solo era stato condannato per un omicidio doveva stare in carcere 35 anni e ce ne è stato solamente 15, quindi a 25 anni ha fatto l'omicidio, a 30, scusa 12, a 37 è uscito. Ha avuto anche la grazia da Oscar Luigi Scaffaro, poverino, lui è stato graziato perché l'unica cosa che non poteva fare era entrare nei pubblici uffici, aveva l'interdizione dei pubblici uffici, gli ha cancellato anche la pena per l'interdizione dei pubblici uffici, questo per dirvi, il cardinale sono riservato che ho fatto dall'indulto, poi la brigatista che aveva partecipato all'omicidio, Fanel, ah no, un altro omicidio che era a capo della brigatista, di questo stiamo parlando, quando noi siamo lì abbiamo questa gente davanti, quindi non sai mai quante persone hanno ammazzato, per farvi una battuta, però la situazione è molto delicata e non vi dico niente di buono perché onestamente non c'è niente di buono da dire, tranne che noi ci stiamo impegnando al massimo e se mai governeremo riusciremo a risolvere qualche cosa da opposizione, stiamo facendo miracoli, però signori vi posso assicurare che la situazione è grave, io su Catania, l'unica cosa in più che vi voglio dire, su Catania l'unica cosa che vi voglio dire è che mi sono, diciamo, ogni tanto la sera in preda alla follia e questo mi piacerebbe che lo faceste anche voi perché sapete che c'è l'amministrazione trasparente, quindi un minimo, abbiamo qualcuno che sul sito di Catania lavora seriamente e pubblica abbastanza cose, a parte che oggi sono uscite due note della Corte dei Conti che hanno detto che il Comune di Catania ha spesso troppi soldi in premi per i dirigenti, quindi siamo solo... L'ha dato il Consoli in una commissione, ha detto che ha dato il premio, voleva dare il premio, ha dato l'APO che è posizione organizzativa alta, posizione organizzativa e alta professionalità agli avvocati che già sono al posto dove loro devono fare il loro dovere e gli dà oltretutto hanno fatto un'altra, un'altra risolta, quest'estate Staccanelli l'ha istituita Staccanelli prima che ce ne andassero nell'ottobre del 2012 e dopo ha fatto tutto questo discorso, perché loro l'ha dato e poi loro hanno possibilità. Comunque su questa cosa non vi cerco di capire un pochino meglio anche perché hanno mandato gli atti alla procura della Corte dei Buoni.